Ciao ragazzi, un bacio grande da parte mia Giuseppe Gaeta Ragazzi, se questo non è amore, si conferma ancora un grande successo Nel giro di due giorni avete fatto 3000 TikTok Incredibile ragazzi, numeri incredibili Il video è arrivato a 1.100.000 Continuate ad usare il suono ragazzi di se questo non è amore E oltre se questo non è amore, vi invito ad ascoltare anche tutte le mie belle canzoni Ok? Il nuovo album, una parte di me, ragazzi qua trovate 10 canzoni Qua ci stanno Come Fat, Un De Colore Discusa e tante altre belle canzoni Mi raccomando ragazzi, su Youtube e Spotify, andatela ad ascoltare Poi se lo volete acquistare lo trovate online su tutti i digital store oppure nei negozi fisici Lo potete acquistare Poi ragazzi, questo è un album di se questo non è amore Se volete ascoltare anche le altre canzoni che ci sono in quest'album Potete anche sempre trovarlo su Youtube e Spotify Eccolo qua Giuseppe Gaeta Senza Paura E se questo non è amore, è la numero 7 E poi voglio, questo è il mio primo lavoro discografico I passi dell'amore E qua ci sono Voglio sulla te E così l'amante che diciamo sulle canzoni di punta E così l'amante qua trovate la vecchia versione Una parte di me trovate la versione nuova di E così l'amante E poi Voglio sulla te Che è anche una bellissima canzone Ragazzi, vi mando un bacio Scusatemi se mi sono prolungato un po' Però è un invito che io faccio a voi Ascoltate tutte le mie belle canzoni Ciao